Non è solamente nella fare del pane che si fanno delle bricolerie, non è vero signori miei? Eh, purtroppo, lo dicevo io, mi deve farla finita e che il mondo vada un po' più da cristiani. È vero. È già. È già. Bisogna andare domattina da Ferre, che quello è un galantuomo, signore Lamano, si è potuto vedere come era contento di trovarsi con la povera gente. Dico bene, signori miei? Sì, sì, arretta i montanari, sono tutti avvocati. Arrivederci domani. Dove? Sulla piazza del Duomo. Qualcosa si farà. Sì, qualcosa si farà. Arrivederci, eh, domani, domani. È meglio tornarcene a casa. Chiedi a questi bravi signori che vogliono insegnarvi la strada per andare al convento di Cappuccini, a Porto Orientale. Con qui io per servirvi, quel bravo giovane, vado anch'io da quella parte. Ah, grazie di cuore.